Bagnoli sembrano in direttura d'arrivo le nomine per la struttura tecnica da un lato e dall'altro ci sono già state riunioni tecniche? No, stiamo lavorando, anche se io non ero ancora insediato, si sta facendo un approfondimento tecnico da quasi due mesi su tutti i dossier perché il tema Bagnoli è un tema che ha una sua complessità, c'è il tema delle bonifiche chiaramente su cui non solo delle bonifiche a terra ma poi anche delle bonifiche a mare che è un tema molto complesso su cui va fatto chiarezza sia dal punto di vista delle scelte che delle tecnologie da utilizzare, c'è un problema dei finanziamenti quindi della copertura finanziaria alla bonifica, quindi fare una valutazione corretta di quali sono i finanziamenti disponibili e i finanziamenti necessari e quindi anche definire con attenzione i cronoprogrammi perché il tempo non è una variabile indipendente, questo è un lavoro che già è stato fatto in parte in maniera molto dettagliata, ovviamente adesso che si insedieremo anche con la struttura tecnica si potrà ulteriormente accelerare e faremo insomma venire a capo di una situazione che purtroppo si trascina oramai da decenni e che rappresenta una grande opportunità per la città. Ci può dare qualche obiettivo? So che è infame sempre dirlo però. No, io diciamo, mi do un obiettivo minimo, avere una certezza delle cose da fare e dei soldi che servono perché anche questo che mi sembra un argomento base al momento non è chiaro. Sui finanziamenti? Non c'è chiarezza con Roma? Non c'è una copertura di tutte le risorse che servono per la bonifica, quindi questo è l'elemento chiave, ovviamente poi va fatto un ragionamento con Roma per capire come si deve garantire la copertura. Quanto manca secondo te? È abbastanza. La nomina è diventata effettiva finalmente? È diventata effettiva, adesso non so esattamente i dettagli ma credo tra la fine dell'anno e gli inizi dell'anno nuovo.